Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, stand LG Al Mobile World Congress, dove sono stati mostrati anche i nuovi F70 ed F90 di LG. L'F70 ha un display da 4.5 pollici, un IPS con risoluzione di 800x480 pixel e abbiamo una batteria integrata da 2440 mAh. La fotocamera posteriore da 5 megapixel, abbiamo poi un processore quadcode Snapdragon 400 da 1.2 GHz. È interessante il fatto che già sia installata la versione 4.4 KitKat di Android con interfaccia utente personalizzata da LG. Passiamo poi all'F90, l'F90 differisce per quanto riguarda il display, abbiamo infatti un 4.7 pollici IPS con risoluzione QHD da 960x540 pixel. Abbiamo una batteria integrata da 3400 mAh, una fotocamera posteriore da 8 megapixel. Anche qui abbiamo ovviamente Android 4.4 KitKat con interfaccia utente personalizzata da LG e abbiamo anche il no code che permette di sbloccare il device impostando fino a 8 tocchi del display secondo una nostra sequenza prestabilita. I modelli F90 arriveranno tra non molto sul mercato, anche sul mercato europeo. Per TelefoneU.net, Antonio Monato.